Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo contest ragazzi per l'estrazione di due account moddati ragazzi Non sto parlando di account glitchati ma sto parlando di account moddati, uno per PS3 e uno per PS4 ragazzi Quindi mi raccomando partecipate, perché per PS3 ragazzi? Per PS3 qualcuno mi stava chiedendo money lobby su PS3 però non ho tempo, non posso farlo e quindi regalo degli account Allora ragazzi per partecipare a questo contest mi raccomando leggete tutti quanti i requisiti Perché altrimenti come c'è scritto anche a schermo se uno solo dei requisiti venisse a mancare voi non vincerete Quindi allora passiamo ai requisiti ragazzi, qual è il primo requisito? Dovete lasciare un bel like a questo video e condividerlo con tutti i vostri amici Invitate i vostri amici a iscriversi al mio canale per nuovi contest e altre cose, ci saranno altre novità ragazzi sul canale Quindi invitate i vostri amici a iscriversi Il secondo requisito ragazzi è appunto iscrivetevi al canale per partecipare a questo contest perché io poi andrò a controllare le vostre iscrizioni e i vostri video piaciuti E quindi automaticamente se vi mancherà come ho già detto anche uno solo di questi requisiti Anche se sarete estratti non vincerete l'account ma passerò a sorteggiare un'altra persona ragazzi Quindi mi raccomando Il terzo requisito ragazzi, qual è il terzo requisito? Dovete commentare con un hashtag partecipo a questo video È abbastanza semplice ragazzi E poi la cosa fondamentale ragazzi che vi dovete ricordare in primis È avere il vostro account youtube con i video piaciuti e le vostre iscrizioni pubbliche Come vedete a schermo c'è scritto Perché questo? Perché io devo poter controllare chi è iscritto al mio canale Chi ha lasciato like Quindi se voi lasciate un like e siete iscritti al canale Avete più possibilità di vincere questo account moddato Mi dispiace che non posso farlo per Xbox One Però purtroppo ho solo PS3 e PS4 ragazzi Poi ragazzi il sorteggio di questo contest Sarà per martedì prossimo ragazzi Quindi mi raccomando non mi chiedete Prendo, faccio, non faccio, vinto, non vinto No Il sorteggio ci sarà martedì prossimo Il 17 aprile Lo farò in live ragazzi Se la connessione me lo permetterà Lo farò direttamente in live In maniera tale che voi possiate vedere Se purtroppo non riuscirò Lo farò in video Comunque sia ragazzi mi raccomando Iscrivetevi veramente numerosi al canale Aiutatemi a crescere Fatemi arrivare a questi tanto sospirati 8k E che dire ragazzi Buona fortuna a tutti per questo contest Un saluto a tutti e al prossimo video Ciao a tutti Ma che ne sono le due mia Wow